Che si trattasse di furti o di smarrimenti è stato un dubbio che ha a lungo tormentato la proprietaria di un appartamento di Selvazzano, che da tempo constatava la sparizione di oggetti di valore da casa. Un dubbio sempre più forte fino alla decisione di rivolgersi ai carabinieri che hanno denunciato per furto aggravato continuato la colf 38enne della signora, accusata di derubare a piccoli passi, dall'orecchino alla forchetta, i datori di lavoro.